Dalla Pineta D'Annunziana al Parco Nord, la strada Pendolo e le opere antidistesto del quartiere Colli. Il piano triennale per le opere pubbliche approvato dalla Giunta Comunale di Pescara fotografa le priorità di intervento dell'amministrazione tra completamento dell'esistente e innovazione. Le priorità nel programma riguardano gli interventi di manutenzione di edilizia, verde e strade. L'obiettivo è quello di cambiare il volto della città entro il 2024. Come spiega ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia? Stiamo parlando del più importante strumento di programmazione delle opere pubbliche che possa esserci in un ente pubblico e quindi per il Comune di Pescara, con una previsione che va dal 2022 sino al 2024 e con opere significative nel 2022 con 2 milioni e 850 mila euro provenienti da oneri concessori che potrebbero anche migliorare nel corso dell'anno ma che abbiamo intanto destinato a manutenzioni importanti, le nostre scuole, la nostra edilizia pubblica residenziale, i nostri parchi ma anche il lavoro di riqualificazione della scuola primaria di via Benetto, della scuola primaria della nostra, di Porta Nuova, della riviera, di via Pepe e di via Marconi. Speriamo che possano esserci anche altre risorse, l'aspettativa è questa, che possano provenire dal piano nazionale di riprese e resilienza. Per il 2022 parliamo tra fondi statali, fondi regionali e fondi locali e due programmi da 35 milioni complessivamente di circa 80 milioni di euro che potrebbero essere realizzati nella nostra città, senza dimenticare che ancora in corso di pubblicazione l'avviso pubblico per l'area di risulta che ha un impatto di svariate decine di milioni di euro. Insomma dovremmo riuscire a cambiare il volto della città, questo si aspettano i cittadini e questo noi cerchiamo di fare, ci stiamo lavorando dal primo giorno di avvento di questa amministrazione e l'obiettivo e che al termine di questo mandato nel 2024 Pescara possa davvero cambiare aspetto e essere ulteriormente migliorata.